Oggi scendiamo in escursione a Roma Bentornati su Crociere Fai da Te Se volete viaggiare in crociera risparmiando siete sul canale giusto Vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando qua sotto anche sulla campanella per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana dal mondo delle crociere In descrizione trovate il link al sito web www.crocierefaidate.it e al gruppo Telegram dove pubblichiamo novità e offerte dal mondo delle crociere Oggi vi portiamo con noi in escursione Fai da Te a Roma in Libertà Sono infatti diverse le crociere del Mediterraneo che fanno scala a Roma e più precisamente nel porto di Civitavecchia Sul canale trovate già un video per una passeggiata nel centro di Civitavecchia che potete fare se non volete raggiungere Roma e vi lascio il video qua nelle schede se non l'avete ancora visto Fatemi sapere anche qua sotto nei commenti che cosa avete fatto voi quando siete scesi a Roma con la vostra crociera Il porto di Civitavecchia dista da Roma circa un'ora e con il fai da te la soluzione più immediata è il treno La stazione non è distante dal porto ma noi preferiamo sempre prendere l'escursione Roma in Libertà che offre la compagnia In pratica un transfer dalla nave al centro di Roma e arrivati nella città eterna si è completamente liberi Non è la prima volta che scegliamo questa soluzione perché ci permette di visitare Roma in Libertà ma con la certezza di avere un ritorno in nave con orario certo Scendiamo dalla nave e saliamo sul pullman per raggiungere la stazione Da qua saliamo su un treno dedicato che in circa 35-40 minuti ci porta a Roma La guida con una breve camminata dalla stazione ci conduce a Via della Concigliazione dove si trova la Basilica di San Pietro centro del Vaticano e anche punto di partenza e di ritorno per la nostra visita di Roma Se amate camminare è il tour perfetto per vedere tutta Roma in un giorno Partiamo subito in direzione di Castel Sant'Angelo e camminando sul ponte Principe Amedeo di Savoia attraversiamo il Tevere per raggiungere Campo dei Fiori col tipico mercato rionale e successivamente Piazza Navona Un passaggio nella zona politica di Roma ed obbligo se non ci siete mai stati Quindi vediamo in successione Palazzo del Senato il passaggio al Pantheon ma c'è troppa coda per fare un giro dentro e poi via verso Palazzo Chigi e Montecitorio, sede della Camera dei Deputati Da qui siamo vicinissimi alla Fontana di Trevi ma non aspettatevi di trovarla vuota A questo punto potreste salire verso il Quirinale noi invece proseguiamo per Piazza di Spagna e Via dei Condoni Volendo arrivare al Colosseo e all'Altare della Patria è fattibile Alla fine di Via del Corso a sinistra abbiamo Piazza di Spagna e a destra invece l'Altare della Patria Se non perdete tempo lungo il percorso sono altre due tappe che potete aggiungere al vostro itinerario ma dipende anche dalla durata dello scala Noi questa volta l'abbiamo presa con calma e quindi siamo rientrati verso il Vaticano per tornare in nave Abbiamo percorso circa 6 km con un itinerario semicircolare che ci ha permesso di vedere alcuni tra gli scorci più famosi di Roma Se non ci siete mai stati è il modo perfetto per vedere da fuori una città stupenda che merita di essere visitata con più calma Come al solito se avete delle domande lasciate pure un commento qua sotto che rispondiamo sempre a tutti Qua sotto in descrizione trovate anche un link per organizzare al meglio la vostra visita fai da te a Roma Se non siete ancora iscritti fatelo adesso per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni settimana sul mondo delle crociere Per questo video dedicato alla visita fai da te di Roma è tutto Noi ci vediamo alla prossima navigazione Ciao da Enrico Ciao da Enrico